8. Alla promenade, come la chiamano qui e cioè nel viale dei castagni, ho incontrato il mio inglese. Ho ho! Ha cominciato lui avvistandomi. Io venivo da lei e lei viene da me. Dunque si è già separato dai suoi. Anzitutto mi dica come fa lei a saperlo. Ho chiesto meravigliato. Possibile che tutti ne siano al corrente? Oh no, nessuno ne sa nulla e non vale neanche la pena che lo sappiano. Non ne parla nessuno. E allora lei come lo sa? Se lo so vuol dire che ho avuto modo di saperlo. E adesso dove se ne andrà? Io le voglio bene, per questo venivo da lei. Lei è una persona davvero eccellente, Mr. Astley, ho risposto. E intanto fra me rimuginavo sbalordito. Ma di dove l'avrà saputo? E siccome io non ho ancora preso il caffè e lei probabilmente ne avrà bevuto uno cattivo, le propongo di andare al caffè del casino, sederci e fumare una sigaretta. E così io le racconterò tutto e anche lei mi racconterà. Il caffè era a cento passi. Ci siamo seduti, ci hanno portato il caffè. Io ho acceso una sigaretta, Mr. Astley non ha acceso nulla e fissandomi gli occhi addosso si è disposto ad ascoltare. Io non vado da nessuna parte. Io resto qui. Ho cominciato. Ero sicuro che lei sarebbe rimasto. Ha detto Mr. Astley in tono di approvazione. Ancora mentre mi recavo da Mr. Astley non avevo nessuna intenzione di raccontargli qualcosa del mio amore per Polina. E anzi, ero ben deciso a non dirgli nulla. In tutti quegli ultimi giorni io non gli avevo detto quasi una sola parola a questo proposito. Per giunta egli era molto timido. Fin dalla prima volta mi ero accorto che Polina gli aveva fatto una straordinaria impressione, ma lui non pronunziava mai nemmeno il suo nome. Eppure, strano a dirsi, non appena lui si era seduto e aveva puntato su di me lo sguardo fisso dei suoi occhi di stagno, tutto a un tratto, chissà perché, mi era venuta una voglia irresistibile di raccontargli tutto, e cioè tutto il mio amore per Polina con tutte le sue sfumature. Così ho raccontato per un'ora e mezzo sana, provandone un piacere straordinario. Era la prima volta che ne parlavo a qualcuno. Accorgendomi che lui si turbava quando il mio racconto si faceva particolarmente appassionato, io insistevo a bella posta sui toni più infocati. Di una sola cosa mi pento. Forse ho detto qualche parola di troppo sul conto del francese. Seduto immobile di fronte a me, Mr. Astley, mi ascoltava senza pronunciare una sillaba e fissandomi dritto negli occhi. Solo quando ho cominciato a parlare del francese, lui mi ha subito rimesso a posto domandandomi severamente se avevo il diritto di accennare a una circostanza così secondaria. Mr. Astley aveva una sua maniera molto particolare di fare le domande. Lei ha ragione. Temo di no, ho risposto. Sul conto di questo marchese di Miss Polina, lei non ha da dire nulla di preciso? A parte le sue supposizioni? Di nuovo sono rimasto stupito sentendomi rivolgere una domanda così categorica da parte di una persona così timida e riservata come Mr. Astley. No, nulla di preciso. Ho risposto. Naturalmente non so assolutamente nulla. In tal caso lei ha fatto male non solo parlandone con me, ma anche solo a pensarci. Sta bene, sta bene, lo riconosco, ma l'importante ora non è questo. L'ho interrotto io sorridendo tra me. E subito gli ho raccontato tutta la storia del giorno prima con tutti i particolari. La trovata di Polina, la mia avventura col barone, il mio licenziamento, la straordinaria paura dimostrata dal generale e infine la visita fattami poco prima da De Grio in tutti i suoi dettagli e le sue sfumature. Concludendo gli ho fatto leggere il biglietto. Lei cosa ne deduce? Ho chiesto. Sono venuto da lei apposta per conoscere il suo pensiero. Quanto a me mi sembra che ammazzerei volentieri quel francesino e chissà forse lo farò davvero. Anch'io, ha risposto Mr. Astley. Per quanto riguarda Miss Polina, lei sa bene che talora entriamo in rapporto con persone che ci sono odiose quando vi siamo spinti dalla necessità. In questo caso vi possono essere delle connessioni a lei sconosciute, dipendenti da circostanze collaterali. Penso che lei possa star tranquillo, almeno in parte, si intende. Per quanto riguarda l'azione compiuta ieri da Miss Polina, essa appare naturalmente piuttosto strana. Non tanto per il fatto che lei desiderasse sbarazzarsi di lei spedendola sotto la canna del barone, della quale, si ha detto per inciso, non capisco proprio perché lui non si sia servito dal momento che l'aveva in mano, quanto perché una tale trovata è perlomeno sconveniente per una tale, per una miss così straordinaria. Si intende che Miss Polina non poteva supporre che le avrebbe eseguito alla lettera quel suo scherzoso desiderio. Sa cosa le dico? Ho esclamato a un tratto guardando fissamente negli occhi Mr. Astley. Mi sembra che lei abbia già sentito tutta questa storia. E sa da chi? Dalla stessa Miss Polina. Mr. Astley mi ha guardato con aria stupita. Vedo che i suoi occhi scintillano e vi leggo un sospetto. Ha replicato l'inglese riprendendo di colpo tutto il suo self-control. Ma comunque lei non ha il minimo diritto di esprimere i suoi sospetti. Io non posso assolutamente riconoscerle questo diritto e mi rifiuto categoricamente di rispondere alla sua domanda. E va bene, basta, non ce n'è nemmeno bisogno. Ho esclamato in preda una strana agitazione e non riuscendo a capire perché mi fosse venuta in testa una tale idea. E infatti quando, dove e come Polina avrebbe potuto scegliere Mr. Astley come suo confidente. Del resto in quegli ultimi giorni io avevo un po' perso di vista Mr. Astley. Polina poi era sempre stata per me un enigma. A tal punto un enigma che anche adesso, per esempio, mettendomi a raccontare a Mr. Astley tutta la storia del mio amore per lei, ero stato improvvisamente colpito, mentre raccontavo. Dall'idea che non potevo dire assolutamente nulla di concreto né di preciso sui miei rapporti con lei. Al contrario tutto appariva strano, infondato, fantastico e addirittura assurdo. E va bene, va bene, ora ho perso un po' la bussola e ci sono molte cose che mi sfuggono. Ho ripreso a dire, quasi ansimando. Del resto lei è un'ottima persona. Ora però non si tratta di questo. Io sono qui per chiederle la sua opinione e non il suo consiglio. Sono rimasto un po' in silenzio e poi ho ripreso. Che cosa ne pensa lei? Perché il generale ha preso tanta paura? Come mai da quella mia stupidissima monelleria tutti quanti ne hanno montato una storia? Una tale storia che perfino De Grio in persona ha ritenuto necessario immischiarbisi? Eppure lui si interessa soltanto alle faccende più importanti. Farmi visita, quale onore! Pregarmi, supplicarmi, lui De Grio che supplica a me. E infine osservi che lui è venuto da me poco prima delle nove e il biglietto di Miss Polina era già nelle sue mani. E allora, domando io, quando lei ha trovato il tempo di scriverlo? Può darsi perfino che abbiano svegliato Miss Polina apposta per farglielo scrivere. Inoltre io ne deduco che Miss Polina è la sua schiava dal momento che arriva fino al punto di chiedermi perdono. E inoltre che cosa c'entra Miss Polina personalmente in tutto questo? Perché è lei stessa a interessarsene tanto? Perché hanno tanta paura di quel barone? E che importanza ha che il generale sposi Mademoiselle Blanche de Cominge. Loro dicono che in relazione a una tale circostanza debbono tenere un certo contegno particolare. Ma tutto ciò è davvero un po' troppo particolare. Ne converrà anche lei. Lei cosa ne pensa? Da quel che leggo nei suoi occhi ne deduco che anche su questo lei ne sa più di me. Mr. Hustley sorrise e scossa il capo. Effettivamente mi sembra di saperne molto più di lei su questa faccenda. Ha preso a dire. Si tratta di una faccenda che riguarda esclusivamente Mademoiselle Blanche. Sono sicuro che questo è assolutamente vero. Beh che c'entra qui Mademoiselle Blanche? Ho esclamato io con impazienza. Infatti mi era abballenata improvvisamente la speranza che ora sarei venuto a sapere qualcosa su Mademoiselle Polina. Mi sembra che al momento attuale Mademoiselle Blanche abbia un particolare interesse a evitare qualsiasi incontro col barone o con la baronessa e tanto più un incontro di natura sgradevole o tanto peggio scandalosa. Su dica. Due anni fa durante la stagione Mademoiselle Blanche si trovava già qui a Roulettenburg e anche io mi ci trovavo. A quell'epoca Mademoiselle Blanche non si chiamava ancora Mademoiselle de Cominge. Come del resto non esisteva neppure sua madre Madame Veve Cominge. Perlomeno allora di questa madre non si parlava nemmeno. Quanto a de Griot non esisteva neppure lui. Sono assolutamente convinto che quei due non solo non sono parenti ma per giunta si conoscono da un'epoca molto recente. Inoltre de Griot è diventato marchese da pochissimo tempo. Ne sono convinto in base a una certa circostanza. Si può anche supporre che lui abbia cominciato a chiamarsi de Griot in epoca recente. Conosco infatti una persona che l'ha conosciuto sotto un altro nome. Comunque egli è effettivamente delle amicizie influenti. Beh questo può essere. Può darsi che perfino Mademoiselle Blanche abbia degli amici influenti. Ma due anni fa Mademoiselle Blanche in seguito a delle lagnanze esporte dalla baronessa in persona ha ricevuto dalla polizia di qui l'invito a lasciare la città. Ed effettivamente l'ha lasciata. Come mai? Lei è comparsa qui dapprima in compagnia di un italiano. Un principe dal cognome storico come Barberini o qualcosa del genere. Era un uomo tutto coperto da anelli di brillanti e neppure falsi. Andavano in giro con una magnifica carrozza. Mademoiselle Blanche giocava a trente e quarante. Dapprima con successo. Ma poi la fortuna cominciò a avvolgerle le spalle. Così almeno mi ricordo. Ricordo che una sera essa perdette una somma notevolissima. Ma la cosa peggiore fu che, un beau matin, il suo bel principe scomparve senza lasciar traccia. E con lui scomparvero anche i cavalli e la carrozza. Insomma, tutto quanto. Il conto dell'albergo era spaventevole. Mademoiselle Zelma, da Barberini, lei aveva prontamente cambiato il suo nome in quello di Mademoiselle Zelma, era ridotta all'estremo grado di disperazione. Riempiva delle sue urle e delle sue strida tutto l'albergo. E in un accesso di isterismo si mise a lacerarsi il vestito che aveva addosso. Nello stesso albergo c'era un conte polacco. Tutti i polacchi in viaggio sono dei conti. E Mademoiselle Zelma, lacerandosi il vestito e la faccia come una gatta, con quelle sue splendide mani lavate nel profumo, produsse su di lui una certa impressione. I due si misero d'accordo e a pranzo lei si era già tranquillizzata. La sera fecero la loro comparsa sotto braccio al casino. Secondo la sua abitudine, Mademoiselle Zelma rideva fragorosamente e il suo modo di fare era alquanto più disinvolto. Appena entrata, essa si mise nel numero di quelle signore che giocano alla roulette e che, accostandosi al tavolo da gioco, scostano a tutta forza con la spalla i giocatori per farsi posto. Qui un tale gesto viene considerato particolarmente elegante da queste signore. Lei, naturalmente, l'avrà già osservato. Ah sì, non valeva neanche la pena di notarlo. Con gran dispetto del pubblico distinto, queste signore non mancano mai. Perlomeno quelle che ogni giorno cambiano al tavolo delle banconote da mille franchi. Del resto, non appena smettono di cambiare banconote, vengono subito pregate di allontanarsi. Mademoiselle Zelma continuava sempre a cambiare banconote, ma il suo gioco era sempre più sfortunato. Noti che queste signore hanno molto spesso fortuna al gioco e dimostrano una straordinaria padronanza di sé. Del resto, la mia storia è già finita. Un bel giorno, proprio come aveva fatto il principino, è scomparso anche il conte. La sera, Mademoiselle Zelma si è presentata a giocare da sola e questa volta nessuno si offrì di porgerle il braccio. In due giorni essa si rovinò completamente. Dopo aver puntato l'ultimo Luigi d'oro e averlo perso, essa si guardò intorno e scorse accanto a sé il barone Wurmerelma, che la osservava con molta attenzione e profonda indignazione. Ma Mademoiselle Zelma non notò la baronale indignazione, e volgendosi al barone col suo ben noto irresistibile sorriso, lo pregò di puntare per lei dieci Luigi d'oro sul rosso. In conseguenza di ciò, in seguito a una lagnanza sporta dalla baronessa, la sera stessa essa ricevette l'invito a non farsi più vedere al casino. Se lei si meraviglia che mi siano noti tutti questi minuti e assai sconvenienti dettagli della faccenda, le dirò che li ho sentiti raccontare da Mr. Fider, un mio parente, che quella stessa sera condusse nella sua carrozza Mademoiselle Zelma da Roulettenburg a Spa. E ora comprenda bene, Mademoiselle Blanche vuole diventare generalessa verosimilmente allo scopo di non dover più ricevere inviti del genere di quello di due anni fa dalla polizia del casino. Ora essa non gioca più, ma questo perché, secondo tutte le apparenze, essa dispone di un capitale che presta interesse a quelli che giocano. È molto più conveniente. Sospetto addirittura che anche il povero generale sia indebitato con lei. Forse le deve del denaro anche De Griot. O forse invece lei e De Griot sono in società. Lei converrà che, almeno fino a quando non sarà concluso il matrimonio, Mademoiselle non desidererà per nessuna ragione attirare su di sé l'attenzione del barone e della baronessa. In una parola, nella sua situazione, lo scandalo è la cosa di cui essa ha più paura. Lei è legato alla loro casa e le sue azioni avrebbero potuto provocare uno scandalo. Tanto più che ogni giorno Mademoiselle Blanche compare in pubblico sotto braccio al generale o a Miss Polina, comprende adesso? No, non ho capito! Ho gridato io in risposta, picchiando con tanta forza il pugno sul tavolo che il garçon è arrivato spaventato. Mi dica, Mr. Astley, ho ripreso a dire quasi fuori di me, se lei conosceva tutta la storia e quindi sapeva perfettamente che tipo fosse questa Mademoiselle Blanche de Cominge, allora perché non ha avvisato almeno me? Il generale stesso o soprattutto Miss Polina che si mostrava ogni giorno al casino o in pubblico sotto braccio a Mademoiselle Blanche? È forse possibile una cosa del genere? Avvisare lei era perfettamente inutile, già che lei non poteva far nulla. Ha replicato con calma Mr. Astley. E del resto di che cosa dovevo avvisarla? Forse il generale ne sa ancora più di me sul conto di Mademoiselle Blanche e ciononostante continuo ad andare a passeggio con lei e con Miss Polina. Ieri ho visto Mademoiselle Blanche cavalcare un magnifico cavallo in compagnia di Monsieur de Grieux e di quel piccolo principe russo e il generale cavalcava dietro di loro su un cavallosauro. Al mattino mi aveva detto che gli dolevano le gambe ma il suo modo di cavalcare era impeccabile. Ed ecco che in quel momento mi è venuto a un tratto in mente che quello è un uomo assolutamente perduto. Per giunta questi non sono affar miei e io ho avuto solo da poco tempo l'onore di conoscere Miss Polina. Del resto, ha aggiunto Mr. Astley riprendendosi di colpo. Le ho già detto che non posso riconoscerle il diritto di farmi certe domande, anche se le voglio sinceramente bene. Basta così, ho detto io alzandomi. Ormai per me è chiaro come il giorno che anche Miss Polina sa tutto sul conto di Mademoiselle Blanche. Creda pure che nessun'altra forza al mondo avrebbe potuto costringerla a passeggiare con Mademoiselle Blanche e a supplicarmi in quel biglietto di lasciare in pace il barone. Qui ci deve essere certo di mezzo l'influenza di De Grio, davanti alla quale tutto deve inchinarsi. Eppure è stata lei a spedirmi contro il barone. Che il diavolo mi porti se ci capisco qualcosa. Lei dimentica in primo luogo che questa Mademoiselle de Cominge è la fidanzata del generale e in secondo luogo che Miss Polina, figliastra del generale, ha un piccolo fratello e una piccola sorella, figli del generale. Ma ormai completamente abbandonati da quel pazzo e forse anche spogliati di tutto. Sì, sì sì, è proprio così, ho esclamato. Allontanarsi dai bambini vorrebbe dire abbandonarli del tutto, mentre rimanere significa difendere i loro interessi e forse anche salvare qualche brandello del patrimonio. Sì sì, tutto questo è vero, eppure tuttavia... Adesso capisco perché tutti si interessano tanto alla Bobulinka. A chi? Ha chiesto Mr. Astley. A quella vecchia strega di mosca che non muore mai, mentre loro aspettano continuamente un telegramma che annunci la sua morte. Ah sì, naturalmente l'interesse generale si è concentrato su di lei. Tutto dipende dall'eredità. Se ci sarà l'eredità, il generale si sposerà. Miss Polina sarà libera. E De Grio? E De Grio? A De Grio daranno dei soldi. Del resto lui non sta aspettando altro. Nient'altro? Lei pensa davvero che lui non aspetti altro? Io non so nulla di più. Ha risposto Mr. Astley, chiudendosi in un ostinato riserbo. Ma io lo so, io lo so! Ho gridato io in preda a una terribile eccitazione. Anche lui aspetta l'eredità. Perché allora Polina riceverà la sua dote e appena presi i soldi gli si butterà al collo. Le donne sono tutte uguali. Anche le più orgogliose di loro si riducono a volgari schiave. Polina è capace soltanto di amare appassionatamente. Nient'altro. Ecco cosa penso di lei. Ma la guardi un po'. Specialmente quando se ne sta seduta da sola sopra pensiero. C'è in lei qualcosa di predestinato, di dannato, di maledetto. E sei capace di affrontare tutti gli orrori e le passioni della vita? Lei, lei... Ma chi è che mi chiama? Ho esclamato interrompendomi improvvisamente. Chi è che grida? Ho sentito gridare in russo Alexei Ivanovich. È una voce di donna. La sente? La sente? In quel momento ci stavamo avvicinando all'albergo. Già da un pezzo, quasi senza accorgersene, avevamo lasciato il caffè. Ho sentito delle grida femminili. Ma non so chi chiamino perché parlano in russo. Ecco ora vedo di dove vengono quelle grida. Ha aggiunto Mr. Astley, indicando con la mano. È quella donna che se ne sta seduta in quella grande poltrona e che tutti quei lacchè hanno trasportato sul pianerotolo d'ingresso. Dietro c'è gente che porta delle valigie. Vuol dire che il treno è appena arrivato. Ma perché chiama proprio me? Ecco, ora grida di nuovo e ci fa segno. Lo vede? Lo vedo che ci fa segno, ha confermato Mr. Astley. Alexei Ivanovich! Alexei Ivanovich, signore iddio, ma guardate un po' che scimonito! Si udiva gridare disperatamente dal pianerotolo dell'albergo. Ci siamo avviati quasi ricorsa verso l'ingresso. Sono salito sul pianerotolo e mi sono cadute le braccia dalla meraviglia, mentre i miei piedi sembravano radicarsi nella pietra del pavimento.